Antonio Russo, presidente dell'Associazione Per Quarto, sabato mattina si terrà un convegno il cui tema è la psoriasi, una malattia che purtroppo riscontra delle problematiche anche di tipo sociale. Sì, infatti l'Associazione Per Quarto, proprio per sua vocazione, cerca di verificare sul territorio quali sono le problematiche sociali che la cittadinanza ci ripropone. Grazie ai nostri associati, il professor Tiseo in particolare e il dottor Cangiano, noi abbiamo riscontrato il diffondersi di questa malattia. Di conseguenza, per dare una giusta informazione alla cittadinanza, abbiamo pensato a questo evento che si terrà sabato mattina presso la pizzeria Raiano. Proprio perché dicevamo che è una malattia a carattere anche sociale, si avvalerà dell'intervento oltre degli aspetti medici, anche di psicologi ed esperti della malattia in questione. Sì, perché questa malattia, quello che nasconde in sé, e quindi noi vogliamo informare la popolazione che non avendo un carattere infettivo, è necessario che chiunque avverta una certa sintomatologia che verrà spiegata ampiamente e con estrema semplicità nel corso del convegno, è necessario che queste persone facciano presente questi sintomi che presentano. Perché si è ancora in grado di poterla curare, seguire e quindi evitare che gli stessi pazienti si chiudano in sé stessi, evitano addirittura a volte di andare al lavoro, creando così un disagio a loro stessi, ma anche a tutta la comunità sociale in cui loro sono inseriti. Vorrei pubblicamente ringraziare la dottoressa Nicolò che con il patrocinio del Comune di Quarto ha ritenuto valido il convegno in sé stesso, ma soprattutto con questo patrocinio l'Associazione per Quarto si sente protagonista attiva della tutela del territorio e della sua cittadinanza. Grazie a tutti.